Buonasera a tutti, sono purtroppo il sindaco di Castro, è una battuta, è una bellissima città. Ringrazio l'associazione, l'anno scorso ci avete stupiti favorevolmente, quest'anno mi dicono, io ieri sono stato giù a Caposera, però sono venuto prima alle 9, mi dicono che è stata una serata entusiasmante, pure quella di ieri, che doppierete questa sera, va bene? Sarete sempre benvenuti nella nostra città ormai, non mia, ma anche vostra. Grazie ancora. Bene, io ringrazio il sindaco, ieri sera abbiamo parlato di turismo, di sostenibilità in linea con quello che è il patrocinio dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile italiano del dottor Giovannini. Questa sera riprendiamo quelli che sono gli scopi fondativi legati alle donne, i diritti a quelli che sono diritti acquisiti, diritti spesso, come abbiamo detto ieri, calpestati, problematiche che derivano ancora da leggi che del 1975 oggi hanno visto non piena applicazione, soprattutto nei diritti verso l'indipendenza economica delle donne. Ed è proprio su questo che si parlerà di diritti, riportandoci alla storia delle brigantesse, proprio per parlare di come viene affrontato a livello familiare e non solo di genere l'argomento spinoso del denaro. E quindi, proprio perché noi siamo a fianco delle donne per garantire quelle che sono un impegno nei confronti di un affrancamento dell'abuso economico, lascio la parola per avviare la tavola rotonda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.